Si continua a parlare ma ci stiamo lavorando oramai da qualche mese perché quella legge regionale, quel disegno di legge che la Regione vorrebbe approvare sicuramente presenta delle criticità notevoli che noi stiamo cercando di migliorare. Sicuramente non possono essere eliminati gli organi deliberanti come chiede la Regione a partire dal gennaio 2019 e noi riteniamo che una scelta così importante debba essere guidata dai consigli comunali che devono rimanere in carica fino a quando non entrerà in vigore la nuova Pescara. Pensiamo che ci sia la necessità di un periodo di almeno tre anni come era nelle previsioni legislative all'inizio di questo percorso per far sì che si possano uniformare tutti i servizi che sono fondamentali perché stiamo parlando di unire tre comuni grandi, tre comuni che farebbero una città di circa 200.000 abitanti è un esperimento che in Italia non è mai stato tentato, noi lo facciamo con grande entusiasmo, con grande forza, con grande determinazione ma queste cose bisogna farle con i piedi per camminare non sicuramente creando le sabbie mobili che poi impediscono percorsi chiari, per i cittadini soprattutto perché i comuni erogano servizi quindi il punto di partenza è quello, capire come possono essere uniformati questi servizi e ovviamente tutto questo deve essere fatto con la regia dei sindaci e dei consigli comunali. Quindi dopo Spoltore e Montesilvano sulla grande Pescara frena anche il consiglio comunale di Pescara? Noi non freniamo, noi mettiamo dei paletti perché la delibera regionale, questo disegno di legge che dovrà diventare legge presenta proprio delle lacune. Cerchiamo di migliorarlo perché sappiamo che i cittadini si sono espressi, tutti a favore della grande Pescara quindi noi siamo qui per rappresentare i cittadini e li dobbiamo rappresentare secondo le loro volontà e loro desiderata quindi lo facciamo convintamente però le cose bisogna farle bene, non farle soltanto per farle e poi non vedere il risultato finale che possa portare vantaggi ai cittadini. Quindi ben venga la grande Pescara ma venga con un percorso netto che noi riteniamo si possa definire entro il 2022. Grazie. Grazie.